Ancora un successo targato gruppo FAI Giovani Vibo Valencia, che ha organizzato nell'ampio comprensorio del comune di Ricadi le giornate FAI d'autunno, l'amato e atteso evento di piazza che il Fondo Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. La passeggiata tra torri e musei di Capovaticano, in compagnia di Donna Canfora, ha attirato centinaia di persone che hanno potuto ammirare bene, e ancora troppo poco conosciuti come la vasta rete di musei diffusi, grazie all'interessamento di Vincenzo Calzonac, responsabile del MURI Museo Civico dei Ricadi, oppure che non erano accessibili perché privati. Un evento straordinario con centinaia di partecipanti che sono stati tirati qui a Ricadi dalle molteplici aperture che l'amministrazione comunale con il Museo Civico dei Ricadi hanno permesso appunto di realizzare durante le nostre giornate FAI d'autunno. Inoltre, grazie alla collaborazione di privati che hanno messo a disposizione luoghi straordinari come Torre Ruffa, anche per le leggende che si intrecciano nella sua storia, qui abbiamo avuto modo di sentire attraverso le parole del narratore Maurizio Pantano La leggenda di Donna Canfora. Magnifica è stata l'apertura riservata ai nostri scrittifai a Casa Berto, residenza dello scrittore Giuseppe Berto che qui a Ricadi ha voluto realizzare questa residenza sul promontorio, proprio a picco sul mare, e dove ha realizzato diverse delle sue opere letterarie. Qui i nostri visitatori hanno avuto modo di incontrare e parlare in un salotto letterario all'aperto con Antoria Berto, la figlia dello scrittore, che ha messo a disposizione tutta l'area per i nostri scritti.